è un gruppo, una scoperta fatta in tre è partito l'UAN in primis, praticamente poi questi lavori si fanno anche in gruppo così via, quindi hanno dato una mano praticamente, la città è stata qui la lunga e l'esperto non è un luogo che poi in queste scoperte qui bisogna poi ridurre i dati, metterli in me e così via allora abbiamo in realtà tre gruppi, l'UAN che è rappresentata dal Presidente, prego Tom Macerino, giusto? no, se... poi praticamente c'è l'Associazione Astrofili Marino che è dell'Associazione dell'UAN poi c'è Pasquale Arno, Presidente dell'Associazione Astrofili Aurunca che è Sessalunca e poi c'è Nello Ruocco dell'Ostrematore Nastrozzurro Nastroverde allora, eccoli qua praticamente insomma i guai e allora loro ci presenteranno praticamente questo video giusto? è una presentazione allora, prego sono io e allora e la prima volta non è